Lavori in legno, ceramica, profumi, sapori. Questo e non solo puoi trovare visitando i mercatini di Natale di Castellabate inaugurati lo scorso 8 dicembre e in piena attività anche il 14, 15 e 16 di dicembre, dalle ore 10 alle ore 22. La manifestazione è stata organizzata dall'Associazione Marcialonga di Castellabate con il patrocinio del Comune, oltre agli espositori provenienti da diversi paesi del Cilento e non solo, sarà possibile gustare specialità gastronomiche della tradizione natalizia cilentana. Il percorso parte da Piazza Perrotti fino alla piazzetta 10 ottobre 1123 per poi risalire nuovamente verso il castello. Per i più piccoli sarà possibile assistere ogni giorno agli spettacoli dei burattini di Rosario Mercurio. Grande novità di questa edizione sarà la Casa di Babbo Natale. Altra novità di quest'anno è la Via dell'Arte, il tragitto esporrà il lavoro di alcuni artigiani attraverso l'arte della lavorazione del legno, del ferro e di altri materiali. Inoltre saranno previsti laboratori dedicati ai produttori cilentani. Io colgo l'occasione per ringraziare il Presidente Nicola Paolillo, Anna Chirichella che lavorano già da mesi per organizzare le edizioni che si tengono nel periodo natalizio. Quest'anno sono due weekend, questo dell'Immacolata e il prossimo e quest'anno anche c'è una novità nel senso che è anche una gratificazione per gli organizzatori perché un portale turistico che si chiama It Alive ha praticamente scelto i mercatini di Natale di Castellabate tra gli eventi a livello nazionale che gli automobilisti in particolare nei giri che si fanno appunto nelle festività natalizie possono votare e quindi possono visitare e possono votare. Quest'anno abbiamo il piacere di essere votati su It Alive che è questo sito in cui autostrade italiane promuove anche gli eventi nazionali. C'è la possibilità di votare il nostro evento, mercatini di Natale nel Borgo Medievale di Castellabate, votando 5 stelle, quindi ci sono 5 stelle da poter mettere su www.italive.it, su mercatini di Natale nel Borgo Medievale di Castellabate e un altro premio invece verrà fatto qui e sul posto. Fare i mercatini in uno dei borghi più belli d'Italia non è poco, siamo sinceramente in un posto magnifico, è diverso, è bello anche la piazza della città, della grande città, però i mercatini nel Borgo Antico, nel Borgo Medievale hanno un altro fascino. Non avete idea di quante difficoltà che incontriamo per realizzare, però è una cosa che ci piace, lo facciamo per il nostro paese, quindi tutti gli ostacoli ce li mangiamo.